Bella a tutti ragazzi, io sono Ricky PZ e oggi siamo qui con l'inizio di questa nuova, magnifica serie chiamata Road to Top Milan ragazzi Partiamo con Andre Silva Man of the Match e mano a mano cerchiamo di creare ogni volta, in ogni episodio, il miglior Milan possibile Ho deciso di fare 3 cambi ogni episodio, quindi cambieremo 3 giocatori utili per costruire il Top Milan E adesso vi faccio vedere subito la squadra Ecco la rosa ragazzi che ho costruito, ho messo Gabriel in porta perché è il portiere più basso di overall per partire Calabria a destra, Gomez, Romagnoli, Desciglio, Locatelli, Kucca, Bertolacci, Suso, Andre Silva Man of the Match come vi ho detto Eccolo qui il nostro protagonista e Oduamadi Le regole sono semplici, se vincerò la partita online normale faremo questi 3 cambi, ovviamente 2 partite ad episodio Qualora dovessi perdere una partita avrò un cambio in meno, quindi se le perdiamo tutte e due ad episodio per esempio Posso fare solamente un cambio, quindi occhio dobbiamo vincere e quindi direi di andare a cercare subito il primo avversario Ecco qui il nostro primo avversario, vediamo Sì vorrei prendere le squadre più con intesa 100, fatte un po' meglio, però se proprio non ne troviamo ci accontentiamo Allora vediamo questa squadra qui Uh bella squadra con Mertens, Lukaku, Sané, Fernandinho, Allan Direi un'ibrida costruita bene Sicuramente non sarà semplice, ma noi crediamo nel nostro Top Milan Oddio, nel nostro iniziale Top Milan E andiamo nel match Ci siamo? Si comincia? Qui andiamo subito in possesso di palla a noi Bravissimo Locatelli che strappa il pallone Locatelli se ne va con un gioco di prestigio Ecco il pallone dentro, può andare a Duamadi, è veloce ma viene anticipato da Jonathan Ta Occhio a Coleman, può far partire il destro ma Desciglio c'è e fa ripartire i suoi Eccolo a Duamadi, o a Duamadi vede Andre Silva Andre Silva bellissimo il passaggio per Suso Suso può correre nel lag più assoluto ragazzi, nel lag più assoluto Non so come farò a segnare Vai Suso, vai Suso, per quel che puoi Vai Suso, madonna tu allora ragazzi nel lag Suso, Suso, non so come tirare ragazzi Suso, ovviamente me la parerà Perché c'è questo lag di merda mannaggia Ma che palle lagga come un malato, come faccio a giocare che lagga così Jonathan Ta tiene il pallone ma qui interveniamo noi con Bertolacce, ripartiamo nel super lag Vai che c'è il movimento giusto, ma Dio santo mannaggia il lag e chi l'ha creato Andre Silva vede il pallone dentro, Suso, ancora la palata di Farman Vai, vai Locatelli, madonna, sembra di giocare con 11 Montolivo in campo ragazzi Perché vanno tutti lentissimi Vai, vai Oduamadi nel limite della tua capacità Oduamadi mettila dentro, attenzione Vai col destro, Andre Silva E andiamo così, 1-0 per noi ragazzi Non ci ho capito niente Ci ho le crisi epilettiche per questo lag Ma non importa, il protagonista della nostra serie è anche capitano Ovviamente, ci porta in vantaggio Siamo 1-0 Milan, 1-0 Andre Silva E continuiamo così Rivediamo il gol, bella azione 2-2 Amadi sulla fascia La mette dentro, ancora Suso E qui Andre Silva con un po' di fortuna, un po' di rimpallo 1-0 per noi E andiamo, forse quitta al ventesimo Non si sa, quitta ragazzi E quindi la prima partita ce la portiamo a casa E quindi diciamo che due cambi ce li abbiamo sicuri Ora vediamo la prossima Eccolo qui il nostro secondo avversario Andiamo a vedere la sua squadra Ha una squadra full argento Attenzione, di una squadra in particolare Se non sbaglio, non ricordo bene Ma un campionato strano Perché vedete, sono tutti di questa squadra Vediamo, potrebbe essere particolare Potrebbe essere divertente E noi ci crediamo Forza top Milan Andiamoci a vincere anche questa partita Andiamo così, perfetto Suso, pallone dentro Andre Silva Andre Silva Prova a rientrare Oddio che giocata Andre Silva Andre Silva col destro Parata di Schaffer Dovrebbe passare a Orgalatasaray Kuczka Ma va bene lo stesso Uh, attenzione La palla è buona C'è Andre Silva Andre Silva Andre Silva Può entrare in aria Andre Silva col destro La parata secca Ma che bella azione di Andre Silva C'è ancora Suso Pallone dentro Attenzione L'azione è buona Bertolacci Può entrare in aria Bertolacci col pallonetto Mamma mia che occasione Bella, bella questa azione Ora cerchio di centrocampo Il pallone è buono Ma c'è sempre Il gigantone Gomez Ripartiamo Ripartiamo Suso Il pallone per Andre Silva Andre Silva Vede il movimento Di Oduamadi Che prova a dar fastidio Attenzione Oduamadi 1-0 per noi Che giocatore Oduamadi Si inserisce E scarica il sinistro E anche un altro Rage Quit Ragazzi Neanche iniziamo noi Le partite Le vinciamo Dopo pochissimo Quindi ragazzi Altro Rage Quit Questa serie Parte così A bomba Quindi ragazzi Che dire Abbiamo ben Tre cambi Ragazzi Nei commenti Ora dovete Dirmi Che cambi Volete Poi mano a mano Li leggerò Tutti quanti E ci regoleremo Vi faccio vedere La rosa Diciamo che Dovete cambiare In base alle versioni Che ne so Dopo Calabria L'altra versione Arrivati fin qui A vedere il video 150 like Totali Me li potete Lasciare Mi raccomando Invitate tutti i vostri amici A vedere questa serie Fatemi sentire I vostri supporti Iscrizione al canale E niente Noi ci vediamo In un prossimo episodio In una prossima serie In un prossimo tutto Un saluto Da Ricky PZ E ci vediamo Alla grande Sul canale Ciao ragazzi